È meraviglioso, è meraviglioso, sta accadendo anche al superbono 110%, siccome l'ha fatto il Movimento 5 Stelle e via ad attaccarlo, e via a dire che è una truffa, e via a dire che genera corruzione, e via a dire che genera droga, ha drogato il sistema edilizio, e invece guardate qua cosa dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il 10 febbraio, pochissimi giorni fa, in audizione al Senato, dice che delle truffe su cui sta indagando la magistratura solo il 3%, sottolineo, il 3% riguarda il superbono 110% e il restante 97% riguarda tutti gli altri bonus edilizi, il primo il bonus facciate e poi l'eco bonus che non sono propri del Movimento 5 Stelle. Esattamente quello che è accaduto per il reddito di cittadinanza, manovra di straordinaria importanza e impatto sociale, massacrata a reti unificate dal sistema politico e mediatico, perché proprio del Movimento 5 Stelle. Stessa cosa sta accadendo sul superbono 110%, ditelo in giro, fate di questo video un video virale, perché solo il 3% delle eventuali truffe riguarda il superbono, falso quindi che il superbono si poggi su un sistema di truffe.